Per la visita di Papa Francesco il prossimo 28 agosto il programma religioso è pronto e ricco di iniziative. Alla Messa innanzitutto parteciperanno anche alcuni cardinali, tra i quali Enrico Feroci, originario di Pizzoli e Beniamino Stella. Il momento clou ovviamente della visita del 28 sarà la Messa alle 10 a Colle Maggio, l'Angelus del Papa, con il rito di apertura della Porta Santa, ma ci saranno alte celebrazioni nella stessa giornata, con la perdonanza dei giovani e tante altre iniziative previste pure per il giorno dopo. Per la visita del Papa c'è un rigido piano di sicurezza che ha curato l'ingegner Maurizio Ardingo, su indicazione del Vaticano e delle altre pubbliche autorità, come è noto. Per questo si è deciso di mettere a disposizione dei biglietti gratuiti, perché le capienze saranno contingentate proprio per motivi di sicurezza. La visita del Papa è un fatto epocale del resto, ma ha paletti rigidi. La stessa cosa accade per tutte le iniziative che riguardano il Pontefice a Roma. Sarà possibile invece assistere al passaggio del Papa senza biglietto da Piazza Duomo sino al viale di Colle Maggio. Lui attraverserà quel punto con la Papa mobile. Questa è una scelta normale, diciamo così, nel senso che chiunque una volta nella vita è andato in Piazza San Pietro per l'udienza generale del Papa sa che ci sono dei biglietti gratuiti ovviamente per accedere in Piazza San Pietro. Però bisogna dire che il Papa vuole incontrare la gente, nonostante le misure di sicurezza necessarie. E quindi tutto il tragitto che va da Piazza Duomo fino a Colle Maggio, lui lo percorrerà in Papa mobile proprio perché vuole salutare la gente, vuole incontrare le persone il più possibile in modo diretto, appunto, secondo le possibilità che permette il piano di sicurezza. Ecco, i biglietti servono perché, diciamo, Piazza Duomo e Colle Maggio saranno ovviamente contingentati proprio per queste ragioni, per rendersi conto della capienza e per far sì che non ci siano persone in più. Certamente, è un problema legato alla sicurezza, quindi questo è stato stabilito, il numero di posti disponibili dalle autorità pubbliche che si occupano del piano di sicurezza e ci saranno dei posti a sedere, sia in Piazza Duomo sia a Colle Maggio. Quindi, evidentemente, ecco, con dei biglietti si riesce a gestire il flusso delle persone che saranno in questi due posti.